Perché i bambini devono ricordare? Perché c'è da studiare il passato per affrontare il futuro. Un messaggio che attraversa tutte le generazioni e che vivrà nella bella mostra allestita presso il circolo di pendenti B per Banca, pronta a debuttare il prossimo sabato. La storia della città di Varese in 127 cartoline raccolte in collaborazione con Ambrogio Gilardi. La storia con il cuore. Perché questo titolo? Quello che mi ha trasmesso la mia nonna, che era un'autodidatta, io me lo porto dietro. Tutto questo mi ha stimolato, mi ha fatto tornare indietro. Come per esempio Marcel Proust parlava della Petty Madeleine. E io penso che tutti quelli che verranno qui accenderanno il cuore. Perché è la storia, questa è una storia che accende proprio il nostro cuore. Quello che ci piacerebbe è davvero vedere la curiosità, l'interesse di vedere cos'era la città giardino. Che non è solo l'immagine statica della cartolina. È un mondo che ha avuto un dinamismo dal punto di vista culturale, dal punto di vista produttivo. Che merita uno studio di approfondimento. I Varesini purtroppo peccano un po' di memoria. Qualcuno dice spesso che i più appassionati di Varese sono quelle persone che non arrivano da Varese. Non sono di Varese, ma si innamorano della nostra città. Ecco, riprendiamo il possesso dell'amore della nostra città e facciamolo conoscere anche agli altri. Non è un uniforme qualunque, è l'uniforme da cacciatore delle Alpi. Sono appassionato di storia. Però è un conto è studiare la storia, è un conto accumulare cartoline e vederle. Però poi le devi far vedere anche agli altri. Faccio parte del carosello storico Tre Leone di Soma Lombardo. È un gruppo di rievocazioni. Non siamo figuranti in costume, ma rievocatori in uniforme. Il motto del nostro gruppo è Ut Memoria Reviviscat, affinché la memoria riviva. Rievochiamo per ricordare e ricordiamo per non ripetere.